Il signor Paquito, il signor Nene, il signor Roberto e il John Paco. Il signor Bidou. Salut les copains ! Vous avez 15 secondes sans regarder le public, en essayant de me donner un titre en français au mot près si tel était le cas. En langue étrangère, vous me donnez le nom de l'interprète ou le nom de la chanson. Si vous en gagnez 3, vous en gagnez 4. Messieurs, nous vous écoutons. Sì per tutti gli comuni, tutti gli comuni, tutti gli comuni, tutti gli comuni. Come spure. Allora, abbiamo pensato, tutti gli comuni. Oh, gli comuni. È Phil Barney, avere un figlio di di vita. È questo? Phil Barney, avere un figlio di di vita. Avere un figlio di vita. Un, due. È una canzone che ha fatto un po' di anni, ha detto che l'a sorti in duo molto tempo e che è stato un tubo Bene Voi lo conoscezzi, non? Là, come c'è, ora, sì, a la limite, ma... C'è un gran, gran, gran standard, ça Appararemmo, molte persone s'en souviene Henri, malvite, va fallo eliminare il primo cadeau Ah, vous la conoscez? C'è molto connu, come c'è Ah, beh, 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 beh... Oh, no! Oh! Oh! Oh, la, la, la! Quel catastrofe, la boite a se l'éliminer Ça, les enfants, ça part mal, ça part mal!